Allora, diciamo che eravamo partiti un po' pessimisti perché diciamo che avevamo una delle due spolette che dovevamo rimuovere che era molto ammalorata e quindi temevamo di non riuscire a rimuoverla con le procedure ordinarie. In realtà l'operazione è andata bene perché già siamo riusciti a rimuovere entrambe le spolette e quindi poi noi le porteremo in cava e fondamentalmente riusciremo quindi a completare l'operazione con successo. Rispetto alla volta scorsa diciamo che abbiamo trovato questa bomba d'aereo sotto una massicciata ferroviaria e quindi abbiamo in un certo senso pensato che questa bomba fosse stata posizionata lì volontariamente perché comunque abbiamo trovato anche lo stato di conservazione dell'Ordigno era veramente buono e quindi fondamentalmente abbiamo pensato che lì fosse stato messo per una demolizione predisposta che è finalizzata proprio a far cadere il ponte all'epoca. Poi è stata fatta la massicciata ferroviaria e poi consigliate che per anni ci sono passati anche i treni là sopra quindi diciamo che la massicciata ha fatto il suo compito, quello cioè di distribuire i carichi lungo la superficie e non hanno causato poi il brillamento dell'Ordigno. Fondamentalmente adesso noi, inoltre la zona rimpervia, non siamo riusciti a fare la struttura di contenimento che abbiamo fatto invece nel mese di luglio, vi ricordate. E poi fondamentalmente noi andremo adesso, una volta che dobbiamo soltanto adesso ci rimane da far brillare le due spolette e portare l'Ordigno in cavo e poi faremo brillare completamente l'Ordigno. Abbiamo sgomberato la zona nel raggio di 826 metri e questo ha comportato il fatto di 161 persone che sono in un certo senso state portate lontano da quell'area di sicurezza e quindi l'operazione si sta svolgendo al momento nel migliore dei modi. Ci manca soltanto la distruzione dell'Ordigno. Evidenzio poi la velocità con la quale si è operato in questo momento. C'è stata una perfetta sinergia fra le istituzioni dello Stato e le istituzioni locali perché noi abbiamo ritrovato l'Ordigno il 23 febbraio e già adesso siamo riusciti a farne la distruzione e il brillamento. Quindi devo dire che c'è stato un virtuoso percorso di sinergia con le istituzioni nel pieno rispetto alle normative di settore. Quindi devo dire che sono molto soddisfatto per l'operazione. Ma diciamo che fondamentalmente è una questione anche di esperienza e che si consolida nel tempo mettendo in atto procedure che nel tempo si consolidano. Quindi fondamentalmente una seconda bomba d'aereo nel breve periodo ha comportato il fatto che sono state messe in campo e in atto delle tecniche, tattiche e procedure fra le varie istituzioni che si erano consolidate nel periodo precedente e che adesso tutti ne abbiamo beneficiato la popolazione perché comunque abbiamo lavorato in completa sicurezza e in brevissimo tempo abbiamo messo in sicurezza un'area che poi permetterà di riniziare i lavori da parte delle ferrovie dello Stato. Diciamo che il ritrovamento di questi ordigni fondamentalmente è correlato con i lavori. Quindi più lavori ci sono e più è facile ritrovare ordigni a carattere generale. Ovviamente siamo in un'area che è stata coinvolta come nota dall'operazione Avalanche quindi è ragionevole che si possano trovare ordigni. Quindi laddove si facciano dei lavori e vengano fatti dei cantieri è molto più probabile che vengano ritrovati degli ordigni. Questo comporta il fatto che vuol dire che più ordigni si ritrovano magari è maggiore il numero di lavori che vengono fatti perché è correlato con questo.